Musica Ciao, mi chiamo Cristel e ho 16 anni e gioco a pallavolo da quando avevo 9 anni. Musica Ho scelto questo sport grazie ai miei genitori che mi hanno spinto a iniziarlo dopo atletica. Frequento liceo scientifico e non è molto facile in realtà conciliare studio e sport, ma mi sto abituando. Musica Sta andando in palestra adesso, sono con la fede. Musica Con lo spogliatoio bellissimo. Musica 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 Vi aspetto sabato alla partita delle serie B. Sono sicura che vi divertirete. Non mancate. Musica Musica Musica